Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio, video in cui rispondo a Shaka. Shaka, apparentemente a Shaka non piace il contenuto del mio canale e mi ha scritto alcuni commenti, li leggiamo insieme, questo è un commento scritto sotto, uno dei video dedicati all'Ambrene Coerenza, vediamo cosa dice Shaka, ma io non capisco davvero tutto questo astio verso l'Ambrene Detto, io, lo ripeto per la centunesima volta, non ho niente contro il personaggio di l'Ambrene Detto, io non ho niente contro il l'Ambrene Detto, faccio semplicemente dei video reaction, commento quello che ci dice l'Ambrene Coerenza, nei suoi video, punto, lui manco ti caga, e no, invece il l'Ambrene Detto so che mi caga, magari non lo fa direttamente, ma mi caga indirettamente, pensa un po' a Shaka, a l'Ambrene Detto è anche iscritto al mio canale, dunque sì, mi caga, non direttamente, ma indirettamente, poi a me se mi caga o no, non frega niente, leggiamo il prossimo commento, otto minuti senza dire un bip, praticamente se non questo sarcasmo da quattro soldi, perché non fai informazione piuttosto che gettare bip su tutto, eh, 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 maleducato o maleducata, Shaka, perché io non so se sei un uomo o una donna, dai, non scadiamo nella maleducazione, no? Questo è un commento sotto l'ultimo video in cui facevo dell'ironia riguardo la tredicesima, la quattordicesima, il TFR, cose che non esistono in Germania, e sto Shaka non ci ha capito un tubo del video, però, eh, penso che costui mi odi talmente tanto da commentare usando queste parolacce, queste offese gratuite, Shaka, non si fa, dobbiamo comportarci da persone mature, andiamo a rileggere il commento di prima, facciamo un piccolo riassunto, e comunque sia Shaka, benvenuta o benvenuto nel mio canale, e grazie per scrivere questi commenti, perché sono sempre fonte di ispirazione, questi utenti a cui non piace il mio canale, e lasciano dei commenti, io li ringrazio, perché sono sempre fonte di ispirazione per i video del mio canale, ma io non capisco davvero tutto questo astio verso Lambrene Detto, ripeto, niente contro il personaggio del Lambrene Coerenza, io faccio semplicemente video reaction a quello che ci dice il Lambrene Detto, in alcuni dei suoi video, lui manco ti caga, no, invece lo so che mi caga, te l'ho detto, mi caga indirettamente, e poi a me se il Lambrene Detto mi caghi o no, non importa, assolutamente un fico secco, otto minuti senza dire un bip, praticamente se non questo sarcasmo da quattro soldi, e l'ho fatto proprio arrabbiare a Shaka, perché non fai informazione, piuttosto che gettare bip su tutto, e chi getta bip su tutto, dai, non fare l'esagerato o l'esagerata, grazie ancora Shaka, grazie a voi per l'attenzione, e noi ci vediamo al prossimo episodio, un caro saluto dal Buzzo e da Shaka, ciao!